Ciao, Break News. Donald Trump si è lamentato con Google perché non dà visibilità alle sue notizie. Google ha un algoritmo che decide queste priorità. Non c'è un compromesso, non c'è un ufficio che decide per simpatie chi va prima e chi va dopo. Google premia prima i siti che hanno i requisiti a posto e poi gli altri. Fox News, uno dei portali che meglio parla delle politiche di Trump, non ha neanche acquistato il protocollo di sicurezza HTTPS. E questo la dice Luca sul fatto che la pretesa non tiene conto del fatto che bisogna essere in regola. Google ha voluto con l'HTTPS dare un premio, dare un gradino di sicurezza maggiore a tutti i nostri siti. Fai una verifica sulla tua URL, guarda che davanti al dominio ci sia l'HTTPS e se non appare chiedi alla tua web agency di acquistare questo protocollo per dotarti di questo requisito base. C'è una morale in questa breve pillola. Qual è? È che nel web le regole oggi le è dette Google e tutti noi dobbiamo adattarci a queste regole. Dobbiamo imparare a renderci amici dell'algoritmo di Google e dobbiamo imparare a scalare le posizioni sul motore di ricerca attraverso la produzione di contenuti con proposte di valore. Se non lo facciamo è inutile che ci lamentiamo sulla posizione del nostro sito. E questo lo dico anche a Donaldone. Bye bye, alla prossima chicca!